Il progetto a casa fortemente voluto dal nostro sindaco Alessio Bevilacqua è pensato per tutte quelle persone che preferiscono o hanno difficoltà ad uscire da casa in un momento di emergenza. È un progetto praticamente innovativo e primo in Italia. Primo perché siamo riusciti in pochissime ore attraverso le nuove tecnologie a creare un sistema di e-commerce e delivery praticamente focalizzato sul livello locale, sul livello dei nostri negozi che ringrazio. Oltre 60 esercenti hanno aderito al progetto che è assolutamente innovativo. Nella pagina www.emergenzaarginiano.it troverete praticamente la pagina con l'elenco di tutti i negozi divisi per categoria con anche qualche automatismo divertente per quanto riguarda la chiamata diretta e addirittura per i ristoranti, pizzerie, paninoteche e gelaterie abbiamo anche il menu digitale consultabile. Voglio ringraziare gli altri due assessori che mi hanno aiutato in questa progettazione che è l'assessore Giovanni Lovato al Commercio e l'assessore Giovanni Fracasso al Digital. Un progetto che nasce grazie soprattutto alla collaborazione dei oltre 60 negozianti che hanno subito capito e aderito alla nostra iniziativa che vuole essere un ulteriore slancio per aiutare i cittadini a sentirsi un po' meno soli e provare a portare un po' di normalità in queste giornate così strane.